a tutti sono angelo volevo ringraziare joseph di trading casa perché mi ha aiutato a trovare la casa che cercavo anche se non avevo un'idea ben chiara lui essendo un amico mi ha consigliato e ha trovato l'immobile che cercavo che andava bene anche con il mio budget è stato molto veloce nell'aiutarmi nella ricerca e abbiamo trovato la casa quindi vi consiglio di venire qua dai ragazzi di trading casa allora che dire di trading casa noi ci siamo trovati molto bene sia io che la mia famiglia perché nonostante abbiamo avuto un breve periodo in cui abbiamo provato a mettere in vendita la casa e poi sono subentrati subito loro siamo rimasti entusiasti del loro entusiasmo perché in pochissimo ci hanno portato sempre un sacco di persone hanno trovato subito il cliente giusto per noi e per loro per venderli la nostra casa e si sono preoccupati di tutto quello che poteva servire a noi e all'acquirente e ci hanno seguito tantissimo sia in procinto di conclusione del rogito che anche il giorno stesso e qualche piccola cosa anche post